Ciao a tutti, eccoci di nuovo con un altro video su un altro degli strumenti messi in promozione forzata da Bassonimus Maledetti! Che cosa abbiamo oggi? Abbiamo un basso molto moderno E' uscito poco a poco fa, abbiamo un Music Man Caprice Anche detto Caprice de Dieu come stavamo dicendo prima O Caprice O Caprice, che quei diavolacci di Bassonimus ci hanno fatto mettere da 1999 a 1899 Eh sì, sì, occio che poi dopo la gente viene una sincope Cioè già è nuovo in più, è già scontato Eh ragazzi è così, è così L'amore dà, l'amore toglie Sentiamo un pochino come suona con tutti i pick up aperti e vediamo un po' Bello Questo è il P? Questo si sta facendo andare solamente il P qua davanti Di questo abbiamo già fatto una video review molto accurata che vi consigliamo di andare a vedere Possiamo dire in breve che secondo noi è fantastico Anche a me mi piace molto Mi piace tantissimo Purtroppo oggi non ho i pantaloncini in tinta No, mannaggia Eh vabbè pazienza, oggi stiamo sul sobrio Vi consigliamo di venirlo a provare perché è davvero eccezionale E se non lo provate siete dei ciucci Ecco Ti è, ci appa lì Cliccate sul link, andatelo a vedere e ad acquistare sui nostri commerce Cliccate sull'altro link per vedere tutte le promozioni che andranno avanti fino al 31 di agosto Sono tantissime video, video, video Scusate se vi lasciamo ma dobbiamo farne molti altri Ci vediamo al prossimo video Sempre voi che ci fate fare le robe invece di farci far niente Ci vediamo su YouTube e su Facebook Al prossimo video, ciao